Capire il podcast. Progetta il podcast. Registra e pubblica il podcast. PDF. EPUB. Anno pubblicazione 2024. Centro Leonardo Education. Pagine certificati Amazon 277 più 284 più 270. Battute editoriali totali oltre 752.000. Contenuti speciali 79 schede. 59 griglie d'uso. 32 attività. 17 workflow tecnici. Decine di illustrazioni, grafiche e screenshot. Linguaggio. Orientato alla divulgazione semplice, preciso e approfondito. Decine di casi e modelli che spaziano in tutti i campi. Pensati apposta per favorire la creazione del tuo podcast. Vantaggio. Riceverai gratuitamente i successivi aggiornamenti di questi ebook.